Parola difficile! Questi registi che mi parla di difficile! A proposito, avete conosciuto Marlène? A chi? Grazie per la visione! E' finito? Ma certo, è finito! Qualche problema? Me lo chiedi pure! Cioè, non ho capito! Io avrei speso 15 mila euro per vedere questa cacata? Adolfo! Adolfo! Non ho capito! Scusate, io ho speso 15 mila euro per vedere una cosa senza né testa né coda! Per festeggiare i miei cinquant'anni dell'azienda dove l'azienda viene! Non si vede mai! Non ho mai fatto vedere una damigiana? Una bottiglia di vino? Un bicchiere vino? Un bicchiere! Un bicchiere! E poi, che c'entra questo paese di vecchi? C'è? 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 Questo è uno spot? E' una merda! Ora basta! Io sono un artista! Tu mi hai dato la piena libertà per fare questo spot! Mi hai fatto venire dalla Germania! E questo è il mio spot! Ma quale libertà! Ma quale libertà! E poi, chi è? Chi è quel nano che mi rappresenta col bicchiere vuoto? E' un nano! E' pura stadia! Ma sei un impotenta c'verg! E' un impotente! E' un impotente! E' un impotente!